Allora Gianluca Galassi, oggi bisognava vincere, lo avete fatto come al solito rimettendo in piedi una partita iniziata 1-0 sopra l'Olanda? Sì, adesso inizia una fase che bisogna vincere per forza perché essendo eliminazione diretta ogni partita può farci scalare posizioni verso il basso e oggi era decisivo, era importantissimo. Siamo stati in difficoltà nel primo set, poi abbiamo svoltato il nostro gioco, abbiamo svoltato la partita e è finita bene per noi, era molto importante, adesso abbiamo due giorni e poi altre due grandi partite, speriamo una buona semifinale e poi la finalissima e non la finalina del terzo quarto, noi sappiamo quello che dobbiamo fare, quello che cercheremo a fare e speriamo che vada bene. Intorno un'Unipoll Arena che già stasera ha detto la sua ma che sabato potrebbe dire ancora di più ed è importante questo per voi? Sì, sì, era un bellissimo scenario, è stato bellissimo sentirci tifare perché veniamo da tre settimane all'estero così e quindi non era scontato che tifassero Italia, è bello giocare in casa, è bello giocare davanti ai nostri tifosi che ci seguono, che ci tifano e adesso sicuramente sabato sarà più importante quindi venite, tifateci e cerchiamo di vincere insieme.